Cambia di nuovo verso, Wigglesworth e Loree aggredisce Hodgson, il meno fisico dei giocatori. Usano le mani, bravissime a impostarla contro la rack, ma usano le mani mentre resta a terra. Hodgson messo sotto grande pressione, usa lo stesso lato, c'è il lato chiuso per due volte la squadra inglese. Qui il placcaggio duro su Hodgson, ma eccola lì, si è vista una mano, non so di chi sia. Vabbè, volendo possono giocare tutti, però qualche caratteristica ce l'hanno. Guder ha stato impostato da apertura dal luglio 2006 con i Saracens, l'estremo. Qui il placcaggio duro di Loree, uno che si fa sentire, che poi molla e cerca di recuperare il pallone. Compagna il giocatore, si rialza, lo lascia. Il problema è poi una mano.